Eccoci qui, un po' in ritardo ma siamo arrivati con il video del lunedì mattina, oggi in ottima compagnia. Mi è venuta in mente di cosa parlarvi mentre preparavo le bottigliette per questi due ragazzi perché durante la giornata di base stiamo prendendo una caramella di... Una... Echinacina E una capsula di... Fermenti Esatto, l'echinacina la prendiamo già da settembre e andremo avanti fino a primavera inoltrata, ciclicamente I fermenti invece li prendiamo in vari momenti, insomma non sempre continuativamente Però adesso che abbiamo necessità di rinforzare il nostro sistema immunitario ed essere pronti a rispondere a eventuali virus che stanno circolando abbiamo deciso appunto di integrarli In più durante la giornata ci prepariamo anche una bella bottiglia con dentro altri due prodotti che ci aiutano, ci danno energia Fanno i muscoli Muscoli E lo stesso rinforzano il nostro sistema immunitario Fate vedere che avete... Eccoli qui Noi abbiamo una bella bottiglietta di acqua All'interno ci mettiamo per ogni bottiglietta un cucchiaino di isotilemo E un cucchiaio da minestra di narus arancio Allora l'isotilemo l'avevamo già visto quando stava male Samuele, quando aveva fatto la febbre Perché è un integratore di sali minerali E' un integratore di sali minerali, all'interno contiene sodio, potassio, posforo, magnesio e vitamina C E a me piace chiamarlo il Gatorade naturale Perché va a rintegrare tutto quello che possiamo perdere con la sudorazione, con lo sforzo eccessivo Se facciamo dello sport O possiamo anche assumerlo semplicemente se abbiamo bisogno di tono e di energia Al posto di berci la tazza di caffè possiamo integrare con una bella tazza di isotilemo In questo caso all'interno avendo la vitamina C riusciamo sempre a rinforzare il nostro sistema immunitario La vitamina C ricordatevi che è un po' la legna per la nostra stufa Noi siamo la stufa e la vitamina C è la legna che fa andare il fuoco Quindi è molto importante integrarla se non con l'alimentazione e eventualmente con gli integratori mirati Insieme poi ci mettiamo il Narosan Arancio E' buono il Narosan Arancio? Di cosa sa? Arancio Sa di arancio E' come avere appunto un succo all'arancio Si può prendere puro cucchiai oppure anche diluito tranquillamente come abbiamo fatto noi nelle bottigliette Il Narosan Arancio è uno dei nostri 5 multivitaminici In qualche video precedente abbiamo parlato del risuscita morti, il polline Questo è un multivitaminico che va bene per tutta la famiglia Di base è molto ricco di vitamina C e di magnesio che ritroviamo appunto anche nell'isotilemo Il magnesio contenuto all'interno di questo prodotto ha la capacità di entrambi a dire la verità Ha la capacità di mantenerci calmi La buccia dell'arancio ad esempio è un potente ansiolitico La buccia dell'arancio insieme al succo e soprattutto il frutto è presente nel Narosan Arancio Per cui integrare il nostro corpo con dei prodotti in questo momento un po' difficile In questo momento in cui siamo particolarmente pensierosi, agitati, stressati Aiuta a rimanere calmi Più riusciamo a rimanere calmi e lucidi Più il nostro sistema immunitario non ne risente Quindi è molto molto importante che riusciamo ad avere una giusta lucidità In modo tale da preservare tutte le funzioni del nostro corpo All'interno del Narosan Arancio abbiamo anche la passiflora, l'ananas, il germe di grano, le chinacea, il sambuco E appunto come vi ho detto il magnesio Questi due prodotti vanno benissimo eventualmente anche singolarmente Si può sempre valutare in base a qual è la vostra necessità principale Presi insieme Prendiamo il bene dell'uno e dell'altro Potenziamo tutto quello che è il nostro scudo protettivo e l'energia del nostro corpo Io ho finito il video, vi lascio anche il link Così se non siamo vicini o in questo periodo appunto un po' difficile Dove andiamo male a raggiungerci Potete anche fare l'ordine online E nel giro di due giorni, tre giorni arriva l'omino rosso Bartolini che vi porta tutto a casa O eventualmente mi chiedete e ci mettiamo d'accordo Ricordatevi che se può essere utile a qualcun altro che conoscete Potete tranquillamente girare questo video Perché più ci aiutiamo uno con l'altro Prima riusciamo a risolvere questa incombenza che ci è caduta addosso E ricordatevi che resto sempre a disposizione per ogni domanda, dubbio o perplessità Mi raccomando Vi saluto, ci vediamo sicuramente giovedì E vi auguro intanto una buonissima giornata Forza e coraggio che ne usciremo più forti di prima Ciao Un bacio, ciao